O Dio, nelle battaglie della vita ti chiediamo un'opportunità onesta, che sia fare la nostra critica con cui scrivere le nostre geste. Se oggi lo facciamo, fai che sia corretto, con fede e l'onore nei nostri cuori. Nel giorno, siamo sempre più forti che non potranno vattenci! Non potranno vattenci! Non potranno vattenci! Non potranno vattenci!